Una donazione veramente importante con cui sette persone sostanzialmente oggi hanno rivisto una possibilità che prima non avevano. Il più bel esempio del significato donare ce lo dà un aretino che nella notte di Natale ha purtroppo perso la moglie una donna di 58 anni. Un evento cerebrale acuto che non ha lasciato scampo alla donna. L'uomo nonostante l'enorme dolore per la sua perdita ha deciso di donare gli organi della moglie regalando così una speranza di vita ad altre sette persone. La signora era una signora arrivata a noi per una grave lesione endocranica e c'è stato questo grande atto da parte anche della signora stessa che ne aveva parlato in vita e del marito con cui abbiamo avuto questo grande rapporto in questi due giorni. Con la possibilità appunto vista la giovanità della signora di poter donare i polmoni, cuore, fegato, reni e poi dopo abbiamo aggiunto anche i tessuti cioè le corne e la cute. Le sette persone in attesa di donazione in tutta Italia hanno ricevuto questo dono proprio nel giorno di Natale. Vi posso dire che i cuori e i polmoni sono andati al nord Italia, fegato e urrene sicuramente nella zona pisana, nella nostra zona, un altro urrene in centro Italia. Tra le strutture coinvolte per il coordinamento dell'espianto organi c'è anche la sezione a retina donazione e trapianti. Il collegamento è molto stretto ovviamente con il responsabile della zona, la dottoressa Bobini della sezione trapianti, la dottoressa che ci interessa poi a livello della nostra area e con l'OTT ovviamente per quanto riguarda il coordinamento e la possibilità di andare a individuare il corretto ricevente.